Buonissimo per il Vescovo il centro c'è la sedia del Vescovo e a destra e a sinistra abbiamo tutti questi questi torri a destra e a sinistra tutta questa parte di questa parola altare gotica è fatta con diversi tipi di pietra e qui abbiamo questo bambino che Grazie Grazie Grazie